L'Ongarone rilancia il progetto delle fiere del Piave e lo fa con Agrimonte, il primo grande evento della nuova stagione. Un messaggio importante per Santa Lucia di Piave e San Donà. I quartieri fieristici della nostra dimensione debbano ragionare in una logica di rete, proprio in chiave di sviluppo di un territorio, quello che per noi oggi non è più L'Ongarone ma quello Veneto. Una scelta fondamentale per non finire assorbiti e che deve abbinarsi alla qualità dell'offerta fieristica, come per la 42esima edizione di Agrimonte in cartellone gli ultimi due fine settimana di marzo. Due cose abbiamo messo in campo per cercare di esprimere un'eccellenza direi quasi unica per una fiera come Agrimonte ed è la qualità degli espositori che verranno lì e dall'altra parte ci sono tutta una serie di eventi collaterali, congressuali, soprattutto di informazione, ma direi di formazione molto importante. 236 sono i marchi aziendali da 13 regioni italiane e da 16 stati esteri che hanno occupato non solo l'intera superficie disponibile ma anche l'area biglietteria spostata per l'occasione. Qualità con la partecipazione di Veneto Agricoltura, l'approfondimento sulle piante spontanee e da quelle comestibili alle officinali. E ancora la presenza giovane dell'Istituto Agrario di Feltre che presenterà i corsi per Casaro ma anche un post diploma per boscaioli professionisti. Tra i temi toccati non mancherà quello della siccità dove l'intera provincia di Belluno lancia un messaggio chiaro alla pianura sul risparmio dell'acqua. Evitare gli sprechi perché in questo momento non possiamo permetterci di sprecare neanche una goccia d'acqua. Insomma l'avvertimento della pianura è mettete a posto i tubi? Beh quello ma lo dobbiamo anche fare noi in provincia di Belluno, non basta mettere a posto i tubi del Trevigiano.